primo giorno di zona gialla salgono ancora ricoveri e contagi tempo di regali i pesaresi si preparano al Natale Confindustria parte il quadriennio della neopresidente Baronciani VL e VIS domenica di sconfitte dolorose buona serata e benvenuti al nostro telegiornale il telegiornale ufficiale di Rossini TV si chiama appunto Rossini News questa è la prima edizione e oggi è lunedì 20 dicembre è il primo giorno del passaggio della regione Marche da zona bianca a zona gialla un declassamento che significa che da questa mattina la mascherina è diventata sempre obbligatoria anche all'aperto un provvedimento che viene avvalorato da una pressione sugli ospedali marchigiani che continua a crescere oggi i ricoveri sono aumentati a 213 cioè 9 in più di ieri di di cui 38 in terapia intensiva esattamente due più di ieri va notato che nelle terapie intensive marchigiane sono attualmente presenti il 77 per cento di pazienti non vaccinati ricoveri che viaggiano paralleli a contagi molto alti anche dopo un weekend in cui si è ridotto il numero di tamponi processati 300 nuovi casi di cui 39 in provincia di pesaro urbino l'incidenza da contagio è schizzata ora a 285 casi settimanali ogni 100 mila abitanti si sono registrati anche tre decessi è venuto a mancare un uomo di 52 anni di monte porzio uno di 81 anni di Senigallia e una donna di 83 anni di osimo ricordiamo però che l'ingresso in zona gialla non determina variazioni nell'accesso ai luoghi pubblici però oggi il comune di urbino attraverso un'ordinanza del sindaco gambini ha deciso di annullare in via precauzionale i prossimi spettacoli previsti al teatro sanzio nello specifico è stata annullata l'esibizione musicale di mercoledì degli allievi dell'istituto volponi dal titolo alla corte del duca federico mentre per giovedì è stato annullato il tradizionale concerto di natale con l'orchestra di strumenti a fiato di urbino l'ingresso in zona gialla non sta invece intaccando la tradizione dei regali natalizi l'afflusso negli esercizi commerciali è proseguito con buon ritmo anche in questo lunedì mattina in cui il nostro edoardo orazzi ha ascoltato le voci di alcuni pesaresi che si avvicinano al conto alla rovescia verso il 24 e il 25 dicembre il 25 natale si avvicina e noi oggi ci troviamo qui in piazza del popolo più precisamente in via san francesco tanti mercatini natalizi alle mie spalle tante opportunità di regalo infatti noi oggi siamo andati a chiedere ai cittadini pesaresi quali regali andranno a fare o hanno già fatto i regali posso dire allora a babbo natale e nipotini ormai non ci credono più quindi il cash che c'è una busta con i vari cash invece la moglie la moglie ha ben deciso di non farci perché ormai sono 54 anni che siamo sposati poi se vuole qualcosa non c'è problema io faccio fatica a regalare un profumo perché sono pure un brillante quindi faccio decidere a lei sto finendo adesso perché sono indietro però dai adesso mancano pochi cosa ha regalato e che tipi di regali ha fatto farà a bambini giochi e gli adulti non so vestiti sciarpe cappelli solite cose che si regalano diciamo che non parto mai con un'idea già decisa poi girando qualche negozio girando anche mercatini si trova sempre qualche idea che ti viene all'ultimo momento però io con i regali sono già ho già completato l'elenco dei dei regali che dovevo fare non ne facciamo soltanto la figlia la nipotina ma noi non li facciamo più ormai a una certe età non si fanno più i regali e alla nipotina si può dire quali regali ha già fatto nipotina no le faccio scegliere a lei adesso sti giorni quando sono le vacanze mi sembra domani l'altro le dico cosa vuole poi io faccio a che punto siamo con i regali fatti sì perché avevo paura del lockdown quindi ho comprato tutto tipo di regali utili comunque cosa ho fatto libri alimenti anche quelli americani ho fatto prodotti più che altro di guerrieri vino e olio uguale della zona di cartoceto e sempre prodotti il territorio quest'anno tutti i prodotti che si possono mangiare almeno tutti utili a lei cosa piacerebbe ricevere invece per natale devo fare letterina adesso una vacanza le Maldive a bella vacanza ormai le letterine è passato molto tempo ma mi piacerebbe che ci fosse più serenità in tutti noi che la gente sia più tranquilla e segue e segua diciamo le regole giuste o sbagliate che siano secondo i punti di vista non solo Natale in centro storico l'atmosfera delle festività si sta respirando a pieni polmoni anche nei quartieri di pesaro con diverse iniziative disseminate per la città questo fine settimana le telecamere di rossini tv si sono infatti accese sulle animate iniziative natalizie apparicchiate a vismara dal quartiere cinque in collaborazione con fisioradi avevamo pensato di fare qualcosa per il Natale proprio in occasione di questi tre mesi di apertura e poi nel contesto che è uscita fuori questo di nuovo questa festa del quartiere dalla quinta quinto quartiere quindi organizzata la circoscrizione e a questo punto devo ringraziare Claudio Salucci il presidente Silvia Marsili una delle consigliere che ci hanno dato l'opportunità di di aggregarci a loro in questa festa con il Babbo Natale il trenino e a quel punto abbiamo voluto portare il nostro apporto con percorsi per bambini anche perché il quartiere ci ha dato veramente una grande mano in questi tre mesi c'è stata una bellissima risposta tanta gente è venuta nel centro e quindi ci siamo sentiti in dovere di di ringraziare tutti e oggi siamo qua e speriamo che sia una bella giornata e una ripartenza veramente per un bellissimo Natale per tutti i bambini e tutte le famiglie. Speriamo ripartire dopo un anno di sosta voluta purtroppo non da forze nostre ma dal problematica del Covid anche se abbiamo riscontrato delle alcuni disguidi e alcune problematiche per arrivare a questa giornata con un po' di restrizioni che ci sono un po' di di altre cose però siamo riusciti a portarli in porto grazie anche alla collaborazione di parecchi commercianti del quartiere in più più che altro anche del nuovo arrivato Fisioradi qui nella zona e siamo riusciti per l'undicesima volta a rifare il Babbo Natale nel quartiere e una giornata che io penso che sia molto positiva anche perché il sole un po' ci aiuta in queste due ore e abbiamo voluto quest'anno portare anche un trenino per i bambini con il Babbo Natale è una novità che qui da noi non si era mai vista perlomeno nella nostra zona e speriamo di accontentare un po' tutti e di fare una bella giornata felice. I ragazzini potranno cimentarsi con le nostre biciclette da corsa e quindi possono provare a fare un'esperienza nuova perché non è insomma comune trovare queste bici da corsa in commercio insomma le mountain bike le trovano ovunque ma le bici da corsa insomma è una cosa un po' più particolare ecco quindi noi siamo qui apposta per far far provare ai bambini questa nuova esperienza. Ed ora cambiamo completamente argomento perché questo weekend è stato eletto il nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per due anni mantenendo Giuseppe Paolini presidente almeno fino a ottobre 2022. A vincere le elezioni è stata la lista alla casa dei comuni accordo elettorale che ha unito PD Movimento 5 Stelle e Forza Italia e che si è preso il 73 per cento dei voti eleggendo nove consiglieri ovvero i sindaci di Urbino Maurizio Gambini, di Lunano Mauro Dini, di Fano Massimo Seri, di Mondavio Mirko Zenobi, di Vallefoglia Palmirucchielli, di Cantiano Alessandro Piccini, di Mercatello sul Metauro Fernanda Sacchi oltre alla vice sindaco di Gabice Mare Mari Lagiro Lomoni e alla vice presidente della provincia Chiara Panicali. Si è invece fermata al 26,8 per cento dei voti la lista provincia in comune formata da Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Civici Marche aggiudicandosi tre seggi quelli del consigliere comunale di San Costanzo Domenico Carbone, del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi e del consigliere comunale di Pesaro Roberto Biagiotti. Dal consiglio provinciale passiamo al consiglio comunale di Pesaro che oggi pomeriggio ha tenuto la sua ultima seduta del 2021, presumibilmente anche l'ultima nella sala della provincia considerando che da gennaio si procederà al rientro nella sala del consiglio comunale, rinnovatasi in versione tecnologica. Nella seduta di oggi è stato approvato il bilancio di previsione del prossimo triennio con il voto favorevole anche del Movimento 5 Stelle che di fatto entra nella maggioranza in consiglio comunale. È ufficialmente partito il quadriennio di presidenza 2021-2025 di Alessandra Barronciani al timone della Confindustria Pesaro Urbino. Ascoltiamo quindi obiettivi e priorità della prima donna alla guida dell'Associazione degli Industriali Pesaresi. Confindustria Pesaro Urbino riparte nel segno di Alessandra Barronciani. A meno di un mese dal commiato di Mauro Papalini dal vertice provinciale dell'Associazione parte il quadriennio della capitana d'industria del gruppo Isopac, prima donna capo di Confindustria Pesaro Urbino che guiderà il comparto fino al 2025. Al suo fianco Vittorio Livi e Gianmarco Scavolini in qualità di vicepresidenti, Flavio Tonetto alla presidenza della piccola industria, Davide Broccoli a quella dei giovani imprenditori. Una squadra con la quale la Barronciani ha presentato le linee guida di un mandato che convive ancora con la pandemia, con le difficoltà connesse al reperimento delle materie prime ma anche con le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sfide per il futuro saranno tante, soprattutto chiamiamolo post-covid ma ancora ci siamo dentro con le mani, con i piedi, con tutto però si aggiunge a questo il problema delle carenze di materie prime, il problema dei costi energetici che per le nostre aziende saranno molto penalizzanti, non sappiamo quanta inflazione genererà tutto questo, cercheremo di affrontarle, cercheremo di trovare il modo per risolvere almeno in parte di stare di fianco alle nostre aziende associate, al manifatturiero in particolare perché questi sono problemi che purtroppo ha solo il manifatturiero che nel nostro territoriale pesa moltissimo, molto importante. Nel contempo avremo anche tante opportunità perché con i fondi del PNRR che intercetteremo, è doveroso, in questo momento possiamo fare dei progetti molto importanti per evitare l'isolamento strutturale che il nostro territorio ha da anni e anche realizzare quei progetti che aspettiamo da decine di anni. I soldi non sono più un problema e quindi dovremo sicuramente affrontare queste cose. Il problema delle donne, dell'imprenditoria femminile e giovanile e un'altra cosa che affronteremo e ne abbiamo già parlato è quello del rapporto con la scuola, con l'università, stiamo partendo dalle elementari con la Confindustria Giovani che ha fatto questo progetto molto importante, io l'ho visto, sta girando nelle scuole, è arrivato anche alle medie, addirittura con qualche ritocco perché ovviamente è stato portato anche all'Istituto Bramante, hanno fatto un ottimo lavoro, un grande lavoro sta facendo anche la piccola in rapporti con gli studenti universitari e questo per il nostro territorio è fondamentale perché le aziende, sì, ce n'è qualcuna che ha degli esuberi e questi cerchiamo di intercettarli con questo nuovo progetto che vi presenteremo a gennaio per intercettare chi cerca lavoro con chi ha degli esuberi e cercare di intercettare anche i fondi che ci sono per fare dei corsi di formazione che magari se servono i fresatori non servono i pizzaioli, non è che ci facciamo un corso per i pizzaioli, cercheremo di farlo, non sarà semplice però andiamo in quella direzione. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha pubblicato oggi la foto che lo vede ricevere la terza dose del vaccino anti-covid. Nell'occasione Ricci oltre a ribadire l'atto di responsabilità civile del vaccino ha rilanciato la sua proposta di green pass obbligatorio per tutti gli studenti per arginare il continuo aumento della didattica distanza. Graziano Rossi papà del nove volte campione del mondo di monotociclismo Valentino Rossi è da sabato ricoverato all'ospedale Santa Croce di Fano nel reparto di neurologia. Il 67enne Graziano Rossi ha accusato un malore mentre era in casa ed è stato ricoverato in ospedale dove un attack ha escluso criticità ma ha consigliato almeno un altro giorno di degenza ospedaliera. La guardia di finanza di Pesaro ha effettuato un'importante donazione allo Iopra di Pesaro associazione di volontariato che opera nel campo dell'assistenza domiciliare ai malati di tumore. Grazie all'acquisto di alberelli di cioccolato le donne e gli uomini delle fiamme gialle hanno voluto contribuire a un grande gesto di solidarietà. Si trova a Fano il primo e unico museo della batteria d'Italia. nato da un'idea di Daniele Carboni sono 25 gli esemplari esposti e identici a quelli utilizzati da grandi interpreti della musica dello strumento come ad esempio Ringo Starr e John Bonham ma anche della storia della musica italiana come IPU e PFM. Guardiamo il servizio di Simone Celli. In Italia ce n'è soltanto uno e tutta Italia ne sta già parlando. Il museo della batteria di Fano è già sulla bocca di tutti. Al suo interno 25 esemplari identici a quelli suonati da grandissimi musicisti di tutto il mondo. L'intuizione vincente è stata di Daniele Carboni, appassionato collezionista che in più di vent'anni ha raccolto e restaurato diverse batterie gemelle di quegli strumenti originali che hanno fatto la storia della musica. Dopo tutti questi anni dovevo dargli un senso quindi o rivendevo tutto oppure quello che mi è venuto in mente è metterla a disposizione del pubblico e prevalentemente chiaramente degli appassionati di musica e di batteria che possono ammirare qui nel nostro museo tutte queste appunto kit personalizzati delle varie bande. La collezione parte dai primi del novecento, la prima batteria che abbiamo qua all'ingresso è una batteria degli anni venti, poi passiamo alle batterie degli anni trenta, anni quaranta ma prevalentemente diciamo che le batterie più significative sono quelle degli anni sessanta, sessanta settanta dove appunto le bende più famose come appunto dei batteristi più famosi come Ringo Starr, Ian Pace piuttosto che Charlie Watts, Kate Moon degli Yahoo o John Bonham, abbiamo la batteria di John Bonham che è una delle più imponenti all'interno, una Ludwig Vista Light trasparente che era molto molto diciamo innovativa all'epoca e sono tutte batterie tra l'altro che oltre che ammirarle si possono anche suonare quindi le metto a disposizione anche dei più giovani che vogliono intraprendere questo strumento. Le batterie sono tutte diciamo sono tutto nel mio cuore perché chiaramente dalla prima all'ultima hanno la loro storia e la loro importanza. Una in particolare, diciamo due in particolare, sono quella appunto di Ian Pace, una Ludwig Blake Oyster con il doppio timpano col quale Ian ha anche suonato venendo appunto nel 2000 a Fano nel nostro teatro a rendere un sogno diciamo la nostra band venendo a suonare appunto con noi. Quindi questa è una batteria al quale ci tengo tanto. Un'altra molto molto bella che ho riscoperto negli ultimi anni è una Iman, una batteria inglese col quale suonavano i Genesis, i Cream e tante altre band che ha veramente una grande potenza è molto molto bella. Poi abbiamo tutto un reparto dedicato al Made in Italy, sono le famose batterie di Meazzi, questo diciamo innovatore che ha iniziato a costruire violini poi è passato alle batterie che fin dagli primi anni 60 ha iniziato a costruire le Hollywood, batterie che quasi tutti i nostri nonni che suonavano già dalle orchestre alle band beat piuttosto che alle band rock avevano. Poi abbiamo tante altre batterie come la Meazzi, appunto la Meazzi Jolly, un'altra Hollywood President diciamo che era il top di gamma del periodo e fino ad arrivare alla Hypercussion che è una batteria degli anni, dei primi anni 70, primi anni 80 col quale si cimentavano il rock progressive come la PFM, i Poo stessi. Il museo è stato pensato come un vero e proprio tempio della batteria dove la musica si ascolta, si osserva e si registra ma soprattutto si impara e si suona. Poi il sabato sera per chi volesse, per i nostri soci del club, associazione Luciano Bonfitto che il nostro carissimo amico è scomparso lo scorso anno che ha fatto tanti progetti insieme a me musicali, al quale abbiamo dedicato appunto questa associazione che ospita il museo. Facciamo dei piccoli concerti o degli spettacoli anche teatrali con delle apericene e chi volesse venire insomma dalle otto e mezza fino a mezzanotte siamo qua ad accogliervi. Il museo nasce per dare vita alla musica come ho detto suonata dal vivo, a dare la possibilità ai ragazzi e a quelli un po' meno ragazzi di studiare, di impegnarsi e di imparare un strumento fino a potersi vivere nel nostro parco e così dare vita a riuscire a diciamo a mandare via questi due anni pessimi che abbiamo avuto che purtroppo la musica l'abbiamo dovuta eliminare. Abbiamo inoltre sì anche uno studio di registrazione delle sale prova ci occupiamo di produzioni musicali e non solo. Esatto abbiamo in programma anche che partirà da gennaio questa scuola condotta da me come maestro e assieme ad altri professori insomma. Da gennaio ci si può iscrivere direttamente sul sito e poi si parte insomma. Noi puntiamo appunto a portare i giovani fin da piccoli ad approcciare a approcciarsi insomma questo a questo strumento facendo insomma riscoprire no questo cioè la bellezza diciamo della musica visto che adesso sono tutti abbastanza improntati sul sul digitale quindi su sui computer software e cose varie fanno tutti musica da tavolo e e allora noi si prova a spingere insomma per portarli al riconoscimento insomma di queste di questo strumento di questo strumento che è la base di tutto. E in chiusura parliamo dello sport un weekend amaro anzi una domenica amara per lo sport pesarese perdono infatti sia la Carpegna Prosciutto Basket sconfitta con un tiro all'ultimo secondo da Reggio Emilia sia la Vis caduta nel derby di Ancona appuntamento rimandato con quella quarta vittoria consecutiva che la Vuela tendeva da dieci anni e che dovrà continuare ad aspettare. La Carpegna Prosciutto Basket pesero cade alla vitrifrigorena 69 a 72 con un urticante K.O. all'ultimo secondo deciso da una tripla di Olisevicius. Reggio avanti per quasi tutto il match anche di 18 lunghezze ma la squadra di Banchi è brava a riemergere rimontando fino alla parità ad una ventina di secondi dalla fine. Poi la tripla che fa esultare la Una Hotels. Consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare con una squadra come Reggio Emilia non siamo stati capaci di approcciarla in maniera adeguata dimostrandoci impreparati sotto il profilo mentale, fisico, tecnico a superare la loro aggressività e ne è scaturito un primo periodo che ha condizionato poi la nostra gara. Devo ammettere che siamo stati poi capaci di invertire l'inerzia della gara pur in una serata al tiro non perfetta contro avversari che viceversa sono stati capaci di segnare con regolarità trovando buone conclusioni sia dall'arco che dentro l'area. La sensazione era in chiusura di terzo periodo che avessimo finalmente ripreso in mano le redini della partita giocando con quell'identità che deve essere nostra dalla quale non possiamo assolutamente prescindere. È venuta meno la lucidità e poi nel finale a decidere è stato un tiro e come detto le unireche recriminazioni riguardano il fatto di non essere stati capaci di interpretare fin dall'inizio questa partita con quel atteggiamento che sarebbe servito. Dal basket al baskin la cosiddetta pallacanestro integrata che ha vissuto una domenica da incorniciare per la lupo baskin pesaro laureatasi campione d'italia della disciplina battendo 79-71 Montecchio Maggiore nella finale di Lignano. Nel calcio di Serie C sconfitta per la Vispesaro nel derby di Ancona con l'Ancona Matelica che batte 3-1 la squadra di Banchini. Dorici avanti 2-0 con la doppietta di Fagioli, Vischi reagisce nel finale con una gran rete di Domenico Rossi e per poco non sfiora il pari con De Respinis. Velletà di rimonta però avvilite dal sigillo di Moretti al 97esimo che vale il 3-1 conclusivo. Dentro quella partita lì, al primo a fondo per il di gol, devi essere come un tenista, devi dimenticare subito quella pallina lì e pensare a quella prossima. Invece a noi ci mancano ancora alcune armi mentali però la squadra ha iniziato con sei andre in campo e quindi questi percorsi, questi prove ed errori sono normali. Quello che mi fa comunque pensare è che poi siamo stati dentro la partita e nel primo tempo Farroni ha salvato il risultato perché potevamo prendere l'ora anche prima, però c'era la sensazione di essere pericolosi soprattutto davanti alla linea difensiva del Lancona che sapevamo che rompe poco ma scappa, preferisce scappare. Non abbiamo fatto, abbiamo provato a fare grandi cambiamenti, quindi due giocatori subito inizio ripresa e non abbiamo fatto bene sul gol del 2-0, lì è colpa nostra, ci sono due ingenuità. Io sapevo di questo ambiente complicato, alla fine finisce 3-1, ancora merita di vincere, vincere, non c'è problema. Con Catalano in panchina, seconda vittoria consecutiva per l'Alma Juventus Fano che al Mancini regola 3-0 Fiuggi con la doppietta di Tortori e una rete di Varriale. Nel weekend di pallavolo la Megabox Vallefoglia gioca 3-7 punto a punto con Monza ma ad Urbino sono le Lombarde a spuntarle con il punteggio di 3-0. È il momento di vedere la programmazione di Rossini TV per questa sera, allora subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale, le 20.10 vedete il Consiglio della Regione Marche in forma, uno spazio di approfondimento a cura della Regione Marche. E poi andiamo ancora avanti perché come tutti i lunedì torna il consueto appuntamento con CK Obiettivo Salute. Questa sera le 21.20 protagonista sarà il dottor Federico Dall'Olio che è tecnico ortopedico e parlerà dell'importanza dell'utilizzo dei plantari per gli sportivi. Subito dopo alle 21.40 vediamo il festeggiamento dei 35 anni di attività dell'hotel-ristorante La Palomba a Mondavio. Abbiamo davvero detto tutto, vi ricordo e vi consiglio di rimanere collegati sul nostro canale 633 e seguirci con tutta questa bella programmazione, programmi per voi di interesse e approfondimento. L'informazione su questo canale torna domani alle 7.20 con la nostra Rassegna Stampa.